Il segreto per massimizzare la giornata in tre passi. Ti è mai successo di avere delle giornate in cui ti sei sentito incredibilmente produttivo? Immagino di sì, perché più o meno è successo a chiunque. Mentre altre dove arrivi a fine serata, mentre ti sembra di non avere concluso nulla. Oppure ci sono persone che hanno una produttività veramente sempre alle stelle. Come è possibile? Perché partono dal primo elemento fondamentale, il primo passo, che è avere le priorità chiare. Prima di iniziare la giornata dovremo prenderci un momento per riflettere su ciò che è veramente importante per realizzare i nostri obiettivi. Quindi cosa vuoi davvero realizzare oggi? E quello che hai in mente effettivamente serve per raggiungere i nostri obiettivi? Dovremmo avere ovviamente una lista scritta di tutte quelle che sono le vere priorità e concentrarci su di esse. Molti preferiscono fare questa attività la sera prima e addirittura al fine settimana o la domenica sera preparano l'elenco delle azioni più importanti che devono compiere la settimana a venire. Questo semplifica tantissimo l'inizio della giornata dove dobbiamo metterci giù e pensare, allora quali sono le cose importanti da fare? Quindi avere già una mappa chiara aiuta tantissimo. Allo stesso tempo avere l'energia focalizzata sulle singole cose che contano davvero ci darà una spinta, una velocità pazzesca nel concludere le cose importanti davvero. Il passo numero due importantissimo riguarda come gestiamo la giornata. Per essere incredibilmente produttivi dovremo avere l'intera giornata già programmata e questo ci permetterà di stare concentrati, evitare le distrazioni e di avere veramente una produttività fuori dal comune. Quindi dalle 9 alle 9.50 mi prendo 50 minuti per definire quali sono le priorità importanti, quindi le attività che dovrò fare durante il resto della giornata. Poi dalle 10 alle 10.50, immaginiamo di fare dei blocchi da 50 minuti, devo scrivere una relazione per questo cliente. Perfetto. Dalle 11 alle 11.50 devo lavorare su questo. Dalle 12.50 alle 13.50 me lo invento, mi fermo per pranzare e dalle 13.50 alle 14.00 ho da fare una passeggiata per rigenerarmi un po' e riposarmi. Benissimo. E così via. Questo permette di evitare tantissimo la procrastinazione perché non ti troverai mai al punto in cui, bene, ho mille cose da fare, cosa faccio? E non sai cosa fare o spesso ti mette a fare le cose facili e non quelle importanti, quindi assolutamente importanti. Ultimo passo ma è fondamentale, tre, riguarda le pause. Dobbiamo ogni tanto staccare per essere sempre al 100%. Quindi è inutile continuare a spingere, spingere, spingere quando poi la nostra produttività crolla perché le conseguenze negative sono molto pericolose. Ad esempio possiamo commettere degli errori che andare a correggere richiederà molto più tempo rispetto a quello che avremmo risparmiato o per alcuni buttato via, perché una pausa viene vista come tempo buttato via, in una pausa. Quindi evitiamo di lavorare quando siamo troppo sovraccarichi perché gli errori che facciamo possono veramente condannarci. Riguardo alle pause è una cosa molto soggettiva. C'è chi consiglia la tecnica del pomodoro, ad esempio di fare una pausa di 5 minuti ogni 25 o di 10 minuti ogni 50 minuti, quindi su 60 ore di lavoro, 50 lavori, 10 di pausa. Questo è veramente veramente soggettivo, dipende da quanto sei concentrato, dipende dalla tua soglia dell'attenzione, dipende da quanto sei stanco e via dicendo. Quindi quello che dovresti fare è testare periodi più o meno lunghi di concentrazione completa per vedere come performi e poi andare a creare le pause in base alle tue caratteristiche, alle tue esigenze. Quindi smetti di procrastinare, smetti di buttare via il tempo perché nessuno te lo riderà mai indietro e concentrati e lavora solo sulle cose che ti interessano davvero. Con questo è tutto, io sono Massimo Martinini e ci sentiamo domani. Ciao! Aggiungo, ricorda di sfruttare al meglio ogni momento della tua giornata ma ricorda anche di goderti il viaggio perché la vera soddisfazione non viene solo nel raggiungimento degli obiettivi che certo per qualcuno sono veramente un godimento puro, ma dovresti essere in grado anche di apprezzare tutto il percorso, il viaggio che devi fare proprio per raggiungere questi obiettivi perché è ciò che riempie la tua vita. Con questo è tutto davvero e ti saluto. Ciao!